L'illustratrice Lorena Martinello al Parco del Muse per il laboratorio allo stand di Vita Trentina. Come va il laboratorio sul calendario dei due piccoli pesci? Il laboratorio sta andando molto bene. Proponiamo una piccola attività creativa con i bambini. Abbiamo qui il calendario dei due piccoli pesci e è un calendario da colorare, ma non solo. È un calendario anche da vivere, da giocare. E quindi la cosa che facciamo è assemblarne vari pezzi, varie piccole tessere, che una dopo l'altra vanno a comporre delle immagini che sono legate alla parola di Dio della Domenica. Con i bambini appunto ritagliamo in modo che sia un'esperienza non solo di azione artistica, ma anche un po' di conoscenza della parola di Dio. Un calendario che tornerà anche nel 2021. Esattamente, proprio in questi giorni stiamo lavorando per ultimare l'impaginazione del prossimo calendario, quello del 2021, che avrà più o meno lo stesso formato. Quindi l'idea è sempre quella di andare a scoprire giorno dopo giorno un pezzetto della parola della Domenica per abituare un po' i bambini ad avvicinarsi, insomma, in maniera fresca e giocosa a quello che è appunto il nostro essere cristiani. Grazie. 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 Grazie.